I tuoi pancake alla banana erano troppo buoni. Grazie, è vero. Possiamo rifare un'altra ricetta con la banana? Facciamo il pancake alla banana. Avremo bisogno di 150 grammi di banane che andiamo a schiacciare con una forchetta. Aggiungiamo un uovo e mescoliamo bene. Un cucchiaio di olio. Un cucchiaino di lievito per dolci. Mescoliamo sempre. Se le banane non sono tanto mature possiamo aggiungere un po' di zucchero, magari assaggiamo un pochino. Se invece sono mature le banane sono già molto dolci. Noi infatti lo zucchero non lo abbiamo aggiunto. Un cucchiaino di miele. Aggiungiamo 90 grammi di farina, poco per volta. e delle noci spezzettate. Passiamo l'impasto in uno stampo e inforniamo a 180 gradi per 30 minuti. Possiamo servire con dello zucchero a velo e delle noci. Alla prossima!